Ciao e bentornati in un nuovo Votatina Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Vi ricordo che trovate tutta una playlist dedicata a questa dieta e ai piatti unici. Anche oggi faremo delle ricette facilissime, golosissime, ma soprattutto sane per una dieta equilibrata. Allora, partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare un porridge freddo, quindi non si cuoce, si prepara in maniera molto semplice. Basta mettere in un mixer il latte a piacere, dopodiché i lamponi, l'avena, le scaglie di cocco, un cucchiaino di semi di chia, mescolare il tutto, se volete potete aggiungere anche un po' di miele o altro dolcificante, mettere tutto all'interno di una ciotola e riporre in frigo per una notte. Il giorno seguente lo potete decorare con qualche lampone scaglia di cocco e gustare. Passiamo al pranzo. Piatto unico, ho preparato due fettine di carne, questa è carne rossa che io mangio solo una volta a settimana, un po' di insalata di pomodori e cetrioli e delle patate. Allora, la prima cosa che ho fatto è preparare le patate. Le ho tagliate, ho messo un po' di sale, due cucchiaini di amido di mais che le rende più croccanti e due cucchiai di olio d'oliva insieme anche a un cucchiaio di pangrattato. Metto queste patate all'interno di una teglia con carta forno e le metto ben distanti tra di loro. Le faccio cuocere in forno ventilato a 220 gradi per circa 20 minuti, dipende anche dalla potenza del vostro forno, quindi magari dateli un'occhiata. Se volete potete metterci qualche spezia tipo paprika oppure io ci ho messo il rosmarino che mi piace un sacco sulle patate. E nel frattempo che le patate cuociono vado a preparare la mia insalata di cetrioli e di pomodorini che vado a condire semplicemente con un po' di olio. Mi piace proprio non mettere assolutamente niente all'interno, solo giusto un cucchiaio di olio d'oliva. E infine vado a cuocere su una piastra sempre senza olio la carne. Dicevo, io la carne rossa la mangio una volta a settimana, due volte a settimana mangio carne bianca e poi il resto preferisco comunque o il pesce oppure vado a mangiare magari delle uova. Ecco, questo più o meno è il mio calendario della settimana. Passiamo allo snack, è uno snack un po' particolare perché è una crema di riso al latte ed è sembra quasi una crema pasticcera ed è senza uova e si fa con soli due ingredienti. Quindi vi servirà della farina di riso finissima, davvero deve essere super super fine e 500 ml di latte, vi sto dando le dosi per circa 2-3 bicchierini, quindi se volete potete diminuirle. Il latte, potete utilizzare il latte che preferite, anche la bevanda vegetale. Quindi fate cuocere la vostra crema come se stesse facendo una crema pasticcera. Quando vedete che i bordi della pentola cominciano a colorirsi come in questo caso, spegnete immediatamente la pentola e toglietela dal fuoco, altrimenti diventerà un pappone immangiabile. Quindi deve essere comunque abbastanza liquida. A questo punto potete aggiungere anche un cucchiaino di miele o in alternativa un dolcificante e le vostre spese preferite come per esempio la cannella o la vaniglia. E la vostra crema è pronta! Passiamo alla cena, anche qui un piatto unico. Faremo delle zucchine al basilico e un filetto di salmone semplicemente cotto in padella. Allora, facciamo cuocere prima di tutto le zucchine in padella senza olio, vi dico senza olio perché andremo ad aggiungere in un secondo momento un cucchiaio di pesto di basilico. E vi giuro, se non avete provato, provatele perché le zucchine col pesto di basilico sono una cosa eccezionale. Quindi una volta cotte le zucchine le metto nel piatto e nella stessa padella vado a cuocere anche il salmone col coperchio perché deve cuocersi anche bene all'interno e poi facciamo anche prima. Quando il salmone è pronto vado a servirlo insieme alle mie zucchine e due crostini. Ovviamente io ho deciso di mettere due crostini come carboidrati ma ci starebbe benissimo in questo piatto per esempio del riso integrale o del riso venere. Allora ragazze e ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Come sempre io aspetto i vostri commenti, lasciatemi un like. Vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Ciao!